Colleenza dei profughi, anche da Rimini il prefetto spiega che il contributo delle famiglie è fondamentale. Di qui un nuovo appello a sostenerle economicamente. Serena Biondini. Un contributo economico per le famiglie che accolgono i profughi ucraini lo chiedono al governo, prefetti e regioni alle prese con una crisi umanitaria senza precedenti. Io credo che il governo debba mettere risorse per le famiglie che accolgono. Un po' di incentivi giusti, come si è fatto in altre emergenze, proprio per cercare di fare una rete di solidarietà che sia la migliore possibile. Ecco, vorremmo evitare le tendopoli. Quasi 10.000 le donne e i bambini arrivati in Emilia Romagna in fuga dalla guerra. Appena 600 quelli ospitati nei centri di accoglienza delle prefetture, dove restano ancora 400 posti liberi. Tutti gli altri rifugiati, quasi 9.000, sono in casa di parenti, amici o famiglie italiane che li hanno accolti senza nessun tipo di rimborso. È un sistema che deve essere assolutamente incentivato e garantito. Quindi mi unisco anche all'appello che è stato formalizzato alla protezione civile, al governo, perché o attraverso un'ordinanza di protezione civile o attraverso una norma primaria possa essere previsto un contributo di autonoma sistemazione per le famiglie e garantire quindi questa assistenza nei confronti delle donne e dei bambini. Con oltre 1.600 rifugiati, Rimini resta la provincia con il più alto afflusso in regione. 60 i profughi accolti nei CAS, altri posti vengono creati in queste ore, ma non basta. I CAS non ce la farebbero nonostante gli sforzi che tutti stiamo approfondendo per cercare di aumentare i posti. Per questo motivo è importante sostenere le famiglie che stanno ospitando gratuitamente le donne e i bambini che arrivano dalle zone di guerra.